Le immagini del drone di Marzio Viscardi danno una chiara idea di quella che è la situazione nell'agro nocerino sarnese dopo l'ennesima ondata di maltempo che ha prodotto una fase particolarmente instabile e piovosa sulla regione e in particolar modo nell'agro tra Angri, San Marzano e Scafati dove gli allagamenti si sono ripetuti in maniera ancora più violenta. In località avaiana sulla strada provinciale di via Artalonga particolarmente critica la situazione. In quest'area particolarmente estesa i campi sono stati allagati dalla forza delle acque dell'alvio comune nocerino. Il rivo non ha trovato la solita confluenza nel fiume Sarno ostruendo e facendo esondare in vari punti anche il rio sguazzatorio, vero problema lungo la zona attraversata anche dalla strada statale 18. L'ingresso dell'importante arteria è stato nuovamente invaso dall'acqua.